A Catanzaro, su iniziativa del sindaco Nicola Fiorite e del presidente della Corte d'Appello, Gabriella Rillo, si è svolta l'iniziativa commemorativa in memoria di Antonio Catricalà, a tre anni dalla scomparsa. Antonio Catricalà è stato, tra i numerosi incarichi, avvocato cassazionista magistrato del Consiglio di Stato, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzione di segretario dello stesso durante il governo Monti, viceministro al Ministero dello Sviluppo Economico durante il governo Letta. Il dottor Catricalà è stato per tutti un esempio di serietà e di competenza. Competenza dovrebbe essere la stella porale che guida le nostre scelte e le nostre azioni, ed è purtroppo invece qualcosa di cui attualmente si sente molto la mancanza. Catricalà in un'intervista disse che è un calabrese e che è stato un servitore dello Stato, perché ha servito anche governi di diverso segno politico, sempre con grandissima dignità, con un grandissimo senso dell'istituzione e del ruolo, lasciando un'impronta nella storia più recente del paese. Però è stato anche un grande calabrese perché ha sempre coltivato questo legame con la nostra terra, in particolare con la nostra città. Il nostro impegno è da oggi di trovare mode e forme per ricordare come si deve una persona di questo livello così alto. Presente all'evento Maria Catricalà, sorella di Antonio, l'evento addetto ai nostri microfoni rappresenta per me un momento di nostalgia. Col termine nostalgia si intende nostos algos in greco, cioè il ritorno al dolore per il dolore, perché questi sono luoghi in cui noi siamo cresciuti insieme, abbiamo condiviso tante esperienze, la nostra infanzia, la nostra adolescenza, quindi è motivo per noi il ritornare qui a parlare di Antonio, in quest'ambiente sempre così caloroso come quello di Catanzaro, un momento di riflessione e di recupero di tanti ricordi. Grazie a tutti.